Bentornati su MyFootballGersey. Vediamo un'altra anticipazione per la prossima stagione, la 2023-24, la seconda maglia del Barcellona in edizione Player. Grazie a tutti. La maglia è sicuramente molto bella e molto elegante. Nella mia classifica prende 4 stelle, molto carino il discorso del doppio bordino di colore diverso e veramente bello il tessuto della versione Player. Il costo lo vedete qui sopra? Non aggiungo altro, però vi ricordo che include anche le spese di spedizione, quindi molto vantaggioso. Fate voi i vostri ragionamenti. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere quali bellissime maglie il sito prepara per voi. Ora vi lascio la parte finale. Prima però mettete un grande like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia Large della versione Player. Ciao.